Grazie al suo territorio unico e al suo clima favorevole, l'Italia è un paese vocato alla produzione di mele. Gli agricoltori devono però affrontare numerose sfide, tra cui gli attacchi degli insetti dannosi. Ad aiutarli c'è Movento 48 SC, un insetticida con ampio spettro d'azione nei confronti delle principali avversità presenti nel frutteto, con una spiccata efficacia contro l'afi dell'anigero. Per ottenere il massimo in termini di efficacia dal prodotto, è però indispensabile seguire sei semplici regole. Regola 1. Usare Movento preventivamente alla comparsa dei primissimi afidi in campo. Regola 2. Usare il prodotto in strategia con altri insetticidi. In modo particolare, per il controllo degli afidi, Bayer consiglia l'impiego di Sivanto Prime in prefioritura e successivamente Movento in post-fioritura. Regola 3. Usare sempre Movento con olio CIN Plus alla dose di 1 litro, 1 litro e mezzo ad ettaro. L'olio migliora l'assorbimento del prodotto, incrementa l'efficacia insetticida e scioglie l'alanugine che ricopre l'afide. Regola 4. Applicare sempre Movento con temperature sopra i 10 gradi e umidità relativa superiore al 50%. Regola 5. Movento dà il meglio di sé con volumi d'acqua pari a 1000-1500 litri ad ettaro. Niente bassi volumi, dunque. Regola 6. Per consentire al prodotto di essere assorbito e ridistribuito all'interno del melo, la pianta deve essere in salute e non avere alcuno stress fisiologico. Seguendo queste 6 regole, Movento può esprimere al meglio la propria efficacia insetticida e assicurare al melicoltore una difesa completa.